salve ragazzi bentornati in dark souls remastered scorso episodio avevamo finito la fortezza di sen finito nel senso avevamo passato tutta la fortezza di sen ci siamo gettati di sotto da un terrazzino e abbiamo trovato questo falò quindi proseguiamo da qui e basso il secondo in cuffia perché mi urta ecco fatto perfetto vediamo se è tutto giusto perfetto ok prima cosa da fare è andare qui sulla destra in questa zona bisogna stare attenti perché apparentemente c'è quel gigante lì che butta le palle e sarebbe il gigante quello che farebbe buttare le palle della trappola praticamente ok e poi c'è un altro da qualche parte che praticamente rilascia le palle di fuoco la facciamo prima fa così problema risolto ok questo è l'anello di resistenza al fuoco esatto ok bisogna un attimino eh là c'è un oggetto ci si arriva cadendo per sbaglio allora ok qui bisogna un attimino correre così così qui il fuoco andavo lì quindi qui possiamo muoverci così bisogna sperare il fuoco adesso non arrivi qui allora qui sotto c'è questa guardia ora questa guardia tendenzialmente fa girare molto le palle va perfetto va perfetto uh guardia poi proseguiamo di qui la scendiamo giù ora vi troviamo un personaggio che sarà ricorrente in tutti i dark souls richard vai richard vai tranquillo noi da altrimenti abbiamo la nostra piromanzia sennò che cazzo siamo a fare piromanti oh oh stocco di lì certo poi qui dovrebbe esserci un anello e quest'altro non ricordo bene direzione di vena ok boccettina di vino là c'è un modo anche per ammazzare quel gigante di là che si vede che sarebbe il gigante quello che apre il il cancello della fortezza però a noi ci importa relativamente ok quindi noi adesso andiamo un pochino tu devi lasciare la panna di fuoco non è alto corriamo di qua guardate la fatta è lunga il drink yes stucco ora qui mi sa che era un po' inutile arrivarci infatti le ginevo il nostro perete illusoria ovviamente non è una perete illusoria comunque 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 allora chiusa allora questi rumori che sentiamo è il gigante su in cima alla strada che ora andremo a far fuori che è quello appunto che ci butta mi pare di fuoco olleh perfetto guarda per ammazzare sto gigante è un po' un po' così cioè nel senso la fight di per sé è facile però bisogna un po' eh bisogna un po' far girare le scatele via da coglioni quando fa quella scarina di pugni lui si stanca dai su su via su dai tira i tuoi pugnettini niente non non invece via via come c'è Vieni, 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 avvicinati. Uff, ui ui, il caccio non me lo aspettavo, deve essere sincero. Perfetto. Molto correct Vabbè ci abbiamo messo i nostri sporchi minuti per farlo Poi prima di andare lì Volevo fare una cosa Vediamo se riesce Allora Possiamo parlare con lui Le date vatte sono belle Di cordo per la sensazione Perché ero come te Lascia che ti aiuti Fini della storia Acquisto Lui ha le titaniti grandi Ecco che c'è E le titaniti verdi Scudo di balder E l'elmo di catarina E l'elmo di acciaio Giusto Difesa del fuoco Vabbè invece noi Compriamo solo Un po' di Quanti ce ne ho? Perfetto Tanto Ci servono Poi Acquistiamo Abbiamo tutti i titaniti Almeno Correggiamo a quell'errore Di avere l'arancia E l'arancia mi sono confuso Perché Sto giocando a troppi A troppi dark souls Contemporaneamente E in più sto guardando Un po' di video Che ero rimasto indietro Di un po' di Yowtauber E mi sono dimenticato Che sta l'ancia del fulmine Mi ricordo che L'avevo già Già fatto Già usato Questo trucchetto E avevo già fatto Lo stesso errore Vuol dire che Così Qua giù in fondo Invece Troviamo Un solo serpente Se non erro Che ha La chiave La chiave Per La di che serve Per liberare Logan La scella di Logan Quella del cappellone Chiave della gabbia In più ci dovrebbe permettere Per accedere Per aprire una gabbia Qui Che mi sa Che è proprio la gabbia Che ci porta Diretti dal Logan Ora vi faccio La faccio vedere Se giustamente Mi ha dimenticato Ma Se giustamente Riusciamo a rifare il salto Perché Non è detto Infatti Perfetto Paschiamo via di sotto Si prende la balestra Di precisione Si beve E andiamo via A meno così Abbiamo preso tutto E festa finita Perfetto Allora Qui noi abbiamo finito Tutto quello che c'era Da prendere Ora Sapete che non mi ricordo Effettivamente Se Se i giganti Rispawnano Perché io Perché io ho due fiaschiette in più Le vorrei prendere Non solo due fiaschiette in più Ma guardate Che facciamo di bello Un'umanità Si usa E torniamo E torniamo Umani La Perfetto E Invece Di questo Mettiamo una Sfera di fuoco Poi Step Successivo Vedi che possiamo evocare qualcuno Piero Deve essere Eh Testi uguali Vediamo subito Se torna Quello Del fuoco Ma ho i miei forti dubbi Infatti Se è vero Le palle Ne finisci mai Allora Adesso Sperando di non aggrare questo Perfetto Vediamo Vediamo se si apre Stascella Yes Cosa succede In questa gabbia Guardate Vedete Dove siamo Ah ok Non ci porta Dal Logan Ma ci porta Poi Prendiamoci Vai Che si Avevo confuso Gabbia E va giù Quell'altra Perfetto In questo modo Lo sbloccai Tutte e due La Poi Dobbiamo Continuare a salire E Manca L'ultima parte Prima di concludere Completamente La zona Perfetto Perfetto Tarkas Tarkas Ferro Nero Lui è L'unico Che effettivamente Se non casca Di sotto Per qualche errore Ok Che può affrontare Quel boss Da solo Un'altra cosa Se noi Non si ammazzava Il Il tirapalle Di fuoco Ce le sparava Mentre si faceva Il boss Quindi Evochiamo Sarà quello Sarà Mi sa che Questo qui È obliquo Vedi Non è dritto Quindi dovrebbe essere lui Eh Infatti No Vedi Com'è Soler E Invece Si Era giusto E ora dovrebbe arrivare Il Fitto Su Leir Ciao Da quant'è Che se vi Che aspetti Andiamo Perfetto Andiamo Voglio Questo è uno Dei boss Effettivamente Più stupidi Che ci sia Che 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 è molto facile l'acqua nucleo, polione di ferro, umanità e medaglione di solare perchè appunto evoco i guerriere del sole? perchè mi danno il medaglione il medaglione li voglio assolutamente li voglio perchè voglio salire col pattolo cosa succede qui? esamina l'anello di luce succede una cosa bella è una cosa brutta, una perchè sarebbe bella andare a livellare però succede anche questo che per chi ha giocato a Demon's Souls sono dei dei buoni ricordi da 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 anor londo un posto tanto bello quanto terrificante grazie del passaggio che bello il trofeo e lì c'è già un gargoyle quello è un dispositivo che utilizzerei e la maggior parte delle cose che vediamo bene o male vediamo se vediamo quanto male si fa volevo vedere perfetto se danno mille o mille e cinque danno eh mille e cinque perfetto questi li cagliamo momentaneamente ce ne sono altri due giù in fondo giù in fondo c'è anche un bel mimic e noi invece giriamo qui scusate giriamo qui al nostro piccolissimo falò come questa guardiana del fuoco che bella questa armatura potenza freschetta di estus potenza freschetta di estus potenza freschetta di estus eh si si perfetto ok adesso mangiamo un'altra umanità avviva fiamma fiamma ah già scemo queste erano già 10 eh non è che mi ricordi tutto tutto ragazzi eh avanziamo di livello perfetto vediamo ok 16 ma sì ma per ora ci vanno bene 3 slot perfetto perfetto allora andiamo a vedere se possiamo nel mentre ammazzare intanto il gargoyle quello che si vedeva da di là ciao oh mi sembra di fargli nulla col fuoco giustamente 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 non gli faccio niente col fuoco però ci sarebbe da ritagliargli la coda ovviamente scudo 100% ragazzi vince oieieie ah non è che ne volevo due però ne volevo due questo sputava fulmine l'altro sputava fiamme però per quello non ah va gli fa male non lo chiappavo fondamentalmente non lo chiappavo là va bene così ah la barda gargoyle due asce il gargoyle e l'ermo del gargoyle va bene molto bene abbiamo anche lo scudo del gargoyle molto molto bene ecco qua perfetto torniamo a riposarci e concludiamo qui la nostra gioiosa allora avvenziamo di livello mancano 400 anime vediamo cosa riusciamo a fare perfetto perfetto 16 ok ok perfetto finiamo qui accanto alla guardiana il nostro episodio e questo è un bel viaggio visto di Anor Londo quindi ci vediamo nel prossimo video è un bel viaggio